L'ape è un animale che vola di fiore in fiore per nutrirsi del nettare che poi trasformerà in miele. L'ape però è anche un insetto sociale, che vive in colonie numerose. L'alveare è dove vivono le colonie d'api. Un alveare è composto da favi, che sono delle costruzioni in cera d'api suddivise in piccole celle esagonali. In Italia l'ape più diffusa è l'apis mellica ligustica spino-ape italiana. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima